Le motivazioni del popolo egiziano sono motivazioni molto vicine, anche le motivazioni che purtroppo in questi giorni ci stanno portando anche a discutere certi decreti qua, ma senza soluzioni concrete. Non auspico a una rivoluzione come quella che sta succedendo in Egitto, perché come abbiamo visto ha anche conseguenze abbastanza gravi per la popolazione civile, però invito tutti all'interno di quest'Aula a riflettere su quello che sta succedendo, anche per l'esigenza e l'urgenza che abbiamo anche noi di dare risposte concrete alla gente qua fuori. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Carra. Grazie Presidente, molto rapidamente e molto semplicemente. Io intendo sollecitare la risposta ad una mia interrogazione che ho presentato il 25 marzo scorso. La numero, abbia pazienza signora Presidente, 4-00084, che ho già presentato nella precedente legislatura, alla quale non è mai stata data risposta, e che recupera una vicenda che è tornata drammaticamente di attualità proprio in questi giorni, relativa al rapimento e all'omicidio dell'On. Aldo Moro. In particolare la mia interrogazione si riferisce alle coperture godute, diciamo, da uno dei componenti, il gruppo di fuoco del commando che era più il Presidente della Democrazia Cristiana, Casimiri, che come è noto è riparato in Nicaragua. Chiedo appunto che il Governo possa rispondere a questa interrogazione, diciamo così, per cercare di riportare un po' di luce su questa vicenda piena di ombre. Grazie. Grazie. La Presidenza trasferirà sicuramente questa sollecitazione al Governo. Ha chiesto di parlare il Deputato Cerane, a facoltà. Grazie, Presidente. Mi risulta che in questi giorni, presso la Procura della Repubblica di Foggia, alcuni imprenditori hanno presentato denunzia contro alcune banche perché ad essi è stato applicato interessi usurari fino al 60%. Si tratta di chiedere al Tribunale di Foggia, al Presidente e a tutti gli organi preposti, a che questo incarico venga consegnato nelle mani di giudici e di magistrati competenti in materia. Si tratta di salvare alcune aziende, addirittura di quasi 50-60 operai che con il disinteresse...